La donna migliore in assoluto è quella che ti rende migliore, che sa far emergere le tue qualità stimolandoti. La donna migliore è quella che non è gelosa e non cerca di romperti i marroni con la gelosia. La donna migliore è quella che sa apprezzarti e non è egocentrica credendo che tutto il mondo ruoti attorno a lei perché questo è un qualcosa che spesso accade. La donna migliore è una donna realizzata. La donna migliore è una donna di successo, è una donna che sa rendersi femminile ma non mignotta, non puttano nella corsa. La donna migliore è una donna che ha una cultura, che ha intelligenza sociale, che sa interagire con le persone. È una donna che desidera la tua felicità e accetta che tu possa desiderare la sua felicità senza essere bisognosa, senza essere appiccicosa, senza essere attaccata, ma vivendosi la relazione in modo libero, gioioso anche un po' materno sicuramente. La donna migliore è una donna con la quale puoi mantenere un dialogo, puoi mantenere una relazione che non sia soltanto, diciamo, un dialogare su luce, gas e bollette, ma è una donna con la quale puoi entrare in sintonia profonda e una donna che può scaldare quella che è la tua anima. È anche una donna spiritualmente evoluta, che mantiene, ovviamente, come dicevo appieno, sicuramente alla sua femminilità e anche il suo essere, come dire, allegra, gioiosa, giocosa. Ecco, questa è la donna migliore. Se non la trovi così, lascia perdere, perché devi aspettare che possa arrivare. Seguimi su Instagram, Massimo Terramasco Ufficiale, su YouTube e su tutti i miei canali. Ciao a tutti!